Primo tempo allegro, vivace con il Pescara a fare la partita, la Salernitana che ha provato a colpire in ripartenza ma l'occasione più nitida l'ha avuta il Pescara con una girata di sottile terminata alta sulla traversa, nel secondo tempo ritmi blandi, blandi, blandi fino al gol di Bettella sugli sviluppi di un corner. Qualche settimana fa parlavamo della prima da professionista di Bettella, oggi parliamo del primo gol tra i professionisti della classe 2000, la Salernitana scossa dal gol subito ha provato a restabilire la parità ma in una delle tante ripartenze ha avuto il Pescara sempre sugli sviluppi di un corner con il colpo vincente da due passi di Ciofani, la palla ha superato abbondantemente la linea, ha trovato il gol del 2-0. Dunque Pescara chiude al quinto posto, attendiamo la giustizia sportiva perché potrebbe diventare quarto posto.